Schopenhauer diceva che la differenza fra giustizia e vendetta è che la prima guarda al futuro e la seconda al passato. Violenza, giustizia ma anche parità di genere, disabilità, bullismo e storie inaspettate di integrazione, pace e legalità. Il Foggia Film Festival, giunto ormai alla sua ottava edizione, sceglie quest'anno di parlare di social experience. E' un segno distintivo questo del festival perché noi non vogliamo fare glamour, vogliamo fare un festival dai contenuti fortemente sociali e far sì che ci sia partecipazione, che vengano esperti, venga il mondo giovanile a dibattere su queste problematiche. Fino al 24 novembre verranno proiettati 82 titoli tra documentari e short film, incontri con autori e scrittori. Non c'è più tempo. Ti odio. Apre il festival lo scrittore Luca Shortino ma non solo, guest star italiane come Sergio Castellitto, Ornella Muti, Giorgio Pasotti, Claudia Gerini, si alternano a registi e attori di opere prime o meno conosciute. La premiazione del miglior film è prevista per il 24 novembre, presiede la giuria Paolo Sassanelli. Tutto proprio su di lui.